Ben a tutti i dragoni, qui è Nico Forza e come vedete siamo in un nuovo video. Oggi siamo in quest'altro video, sempre in ospedale. Scusatemi se non mi sono fatto molto sentire questi giorni, ma le terapie sono molto dure e questi sono stati un po' di giorni difficili. Però, certo, sapere che le terapie sono dure e lunghe non è proprio il top, però sfiggendo i dendi e combattendo al massimo è sopportabile la vicenda. Le cose, come vedete, le cure procedono, io mi sento sempre meglio, tra in alcuni giorni che sono un po' difficili. Però una cosa che mi sostiene tanto siete voi che commentate e lasciate like in ogni mio video e sono pure i miei idoli che continuano a incoraggiammi e dare tanta forza. In questo video ringrazio specialmente Maggio Cappatonda, che sia attore che comico, che in una delle sue ultime serie interpreta il ruolo Mimmo, che mi ha inviato un videomessaggio proprio dove mi dà la forza di Mimmo. Infatti, questo spiega il titolo, non mi mollerò mai. Devo fare un grande ringraziamento anche a The Hammer, cantante, chitarrista, un mastro della musica, non so più, pure youtuber, è tutto praticamente, che mi ha inviato questo videomessaggio dove mi ha incoraggiato e mi ha fatto una bella proposta, che è una sorpresa, che mi ha fatto molto piacere. Come vedete, indosso la maglietta del canale, che mi hanno regalato, mi hanno fatto una sorpresa, mi hanno fatto molto felice. E che vi devo dire di più? E sai, questi giorni sono un po' duri, questi video io li faccio sia per me, perché voi mi incoraggiate, mi date tanto potere, e sia pure per le altre persone che si trovano in questa situazione come me, perché pure loro devono sentirsi molto forti, perché è difficile, molto. Beh, vi do un grande salutone dal vostro Nico Forza. Ciao! Ciao!